Siamo insieme al professor Piccinetti, docente dell'Università di Bologna e direttore del laboratorio di biologia marina qui di Fano. Grande esperto dell'adriatico, grande esperto del pescato, del mondo del grande esperto appassionato che a un certo momento lo ha studiato per tanti anni ma siccome i problemi sono complessi non è che uno perché l'ha studiato per 40-50 anni lo sa tutto, sa un certo numero di cose che... E' uno dei più autorevoli però nel campo, è uno di quelli che può dire la sua su questo argomento. La domanda che le facciamo, l'adriatico ha pare grossi problemi di pesca sia per il pesce azzurro che per le vongole. Quali sono questi problemi e secondo lei quali sono le cause che hanno creato questi problemi? Dunque cominciamo con il pesce azzurro. Del pesce azzurro che sono prevalentemente i piccoli esemplari di sardina, alice e spratto che sono le tre specie più abbondanti, hanno un problema che deriva anche dall'entrata nell'Unione Europea della Croazia, quanto la Croazia pesca un quantitativo di sardine e anche di alici che è superiore a quello che pesca l'Italia. Evidentemente loro avevano dei problemi di mercato entrando nell'ambito dell'Unione Europea quindi c'è questo eccesso di prodotto forse sul mercato che deve essere assorbito. Questo ha creato dei problemi alle categorie che non riuscivano sempre a vendere il loro prodotto e quindi c'è una richiesta da parte dell'Unione Europea di ridurre la produzione della pesca. Ogni riduzione evidentemente va a creare dei problemi a chi le produce perché se io devo pescare nel complesso di meno vuol dire che o riduco le barche o riduco il tempo di pesca di quelli che lo fanno le quantità pescate e questo comporta una serie di problemi per cui si stanno esaminando le diverse possibilità che vanno dalla limitazione dei giorni, la limitazione del numero dei barchi, limitazione del quantitativo pescato, la taglia minima di cattura che è stata già approvata. Quindi ci sono una serie di normative. Una cosa simile sta avvenendo per le vongole che però c'è una diciamo evoluzione totalmente diversa. Le vongole sono pescate normalmente in Italia e lungo la costa adriatica e il quantitativo di pesca delle vongole è stato molto variabile nel corso degli anni. Siamo arrivati da alcuni anni oltre 100.000 tonnellate fino alla produzione attuale che sono 17.000 tonnellate all'incirca. Perché ne prendiamo di meno così poche? Perché è uscita una norma comunitaria europea che non permette la commercializzazione di vongole sotto 25 mm. Questo c'era anche nella legge italiana ma la legge italiana prevedeva un 10% di tolleranza per cui se uno aveva fino al 10% di vongole sotto la taglia legale non gli si faceva il verbale. Adesso invece se uno ha anche una sola vongola potrebbe essere contravenzionato e le contravenzioni sono di 4.000 euro. Evidentemente questo comportato che molti, diciamo, sia dei supermercati, sia delle pescherie ma anche dei ristoranti non servono più le vongole in quanto c'è il rischio che in quel sacchetto di vongole che loro comprano ce ne siano di sotto taglia e quindi che debbano poi pagare una multa abbastanza salata. Per cui preferiscono non venderle. Questa minore richiesta ha portato anche a una minore possibilità di pesca perché il prezzo è crollato. Quindi il prezzo in un certo momento i pescatori gli danno anche meno di 2 euro al chilo e di conseguenza loro ci hanno. Purtroppo la tecnologia di separazione non permette di fare questa separazione in maniera perfetta perché ha un intervallo di circa 3 mm. Attualmente la formula che è stata scelta per risolvere il problema è stata quella di abbassare la taglia legale a livello europeo a 22 mm in modo praticamente di permettere che pur pescando le stesse cose che pescano adesso sia possibile vendere senza fargliela in contravenzione. Questo tra l'altro sta comportando anche una risistemazione della ridistribuzione della flotta di pesca e risistemazione in modo che tutti quanti possano pescare quindi ridurre i quantitativi giornalieri, cercare di vendere il prodotto in certe condizioni quindi risistemare il mercato dando anche più potere a dei consorzi di gestione perché la pesca delle vongole è una pesca oggi un po' all'avanguardia perché sono i pescatori stessi che partecipano, definite le regole generali dallo Stato, a quello che è la gestione del loro futuro e questo è un aspetto molto importante. Ecco, invece l'aspetto dell'inquinamento quanto influisce su queste problematiche? Sulla problematica del pesce azzurro non influisce quasi per nulla perché il pesce azzurro vive poco e di conseguenza non fa in tempo nemmeno di inquinarsi. Per quello che riguarda le vongole noi abbiamo che in alcune zone, siccome vivono in una fascia costiera molto vicina a terra e l'inquinamento viene da terra, in alcune zone ci possono essere dei problemi. Noi abbiamo allora che le regioni fanno una classificazione delle acque individuando le acque che sono o che possono essere in alcuni momenti dell'anno inquinate e sono classificate in acqua in zona A o zona B. Quindi in una zona si possono pescare e commercializzare e in altre zone invece se uno le pesca le dovrebbe passare a un impianto di depurazione ma i pescatori cercano di non andare in queste zone dove c'è delle limitazioni per motivi sanitari. Grazie.